È stato voluto, fortemente voluto, dal collegio docenti, in quanto abbiamo ritenuto che sia veramente importante il coinvolgimento di tutta la scuola Smaldone, i bimbi del nido, i bimbi della scuola dell'infanzia, i bimbi della scuola primaria. Tutti gli insegnanti, tutti, nessuno escluso, veramente si sono impegnati coinvolgendo anche i genitori che hanno dato un valido contributo alla realizzazione di questo presepe vivente. È stato voluto, detto precedentemente, proprio perché in una società all'insegna del consumismo vogliamo lanciare così un messaggio, un messaggio di ritorno alle origini, alle origini della nostra cristianità. Ecco, penso che i bambini debbano vivere questo momento molto importante che sicuramente segnerà la loro vita. L'Istituto Filippo Smaldone, l'Istituto Cattolico, sceglie di creare per questo Natale Nativity, che è il presepe vivente che richiama un po' quella che è la nostra tradizione cristiana. Il desiderio di far vivere a tutti quanti i bambini ciò che è realmente accaduto durante la nascita di Gesù. Crediamo che veramente rendersi partecipi concreti di quella che è un'esperienza sia la maniera migliore per viverla e comprenderla fino in fondo. Quindi con tutti gli insegnanti abbiamo pensato, ideato, progettato insieme alle suore dell'Istituto questa manifestazione, permettendo ad ogni bambino di esprimersi attraverso il rivivere quello che è ciò che hanno vissuto i pastori del tempo, Giuseppe, Maria, la nascita di Gesù bambino.